Che cos'è quella faccia? La tua assunzione è saltata. Che cazzo dici? Il direttore ha dovuto aiutare un collega, ha assunto la figlia... Oh, sono tanti anni, mi passano davanti, fin'idea. Io questa merda non l'accetto più. Ascolta, non aveva alternative il direttore. È la figliola di Giannotti. No, no, no. Di Giannotti? Sì, Giannotti, l'opinionista di punta del nostro gruppo editoriale. Questo Giannotti qui, quello che si scrive l'elogio del merito? Sì. Ma tu hanno tutti i giorni contro la casta delle clientele, poi lo buttano il culo a me. Ascolta, è una situazione delicata. Ma lavoro dieci ore al giorno e settecento ore al mese, senza ferie e malattia. Ma io per pagare l'affitto scrivo su Pissaiolo oggi la mia era in news, ma ti rendi conto? Il direttore mi ha detto che prossimo sei tu. E lo dice da anni però! Basta, vuoi via! Max, non fare il biscaro. Dove vai? Fuori c'è nulla.